L'altro giorno ero in questa banca, mi dicevano, ah, noi siamo una banca solida. Io dicevo, solido non ci sta nella carriola. Dimostramelo. Ci abbiamo impiegato mezz'ora, mezz'ora, ma ci siamo arrivati. Uno ha detto, il nostro tasso di solidità è del 14,1. E allora? A me 14,1 mi fa né caldo né freddo. E no, ma la Banca Centrale Europea richiede un tasso di solidità dell'8,1. Wow, questo sì. Vede signora, la Banca Centrale Europea richiede alle banche, o meglio, perché una banca sia considerata solida, deve avere un tasso di solidità almeno dell'8,1. La nostra banca non ha l'8,1, nemmeno il 9, nemmeno il 10. Ha il 14,1. Quasi il doppio. E questa è una garanzia fondamentale per i nostri clienti. Non crede? Questa è credibilità. Questo è convincere. Niente slogan, dati di fatto, numeri percentuali.